Impressione, garbata, non è garbata? Sì, sì, va ripetuta, va ripetuta. A destra, e si va a sentire ancora giù, la prima numero... 55 85, 8, 5 Numero 63, 7, 3 Numero 55, 5 Abbiamo garantito praticamente le norme di sicurezza come da decreto governativi e ci abbiamo passato un bellissimo conflitto. Un grazie veramente ai volontari della misericordia di San Mignano e della misericordia di San Mignano. Grazie a tutti i nostri spettatori di San Mignano.